Ah raga scusate gli errori di battitura nelle scritte come sono nel video ma dovete capirmi stavo editando di serie, ero stanco, stavo morendo, grazie Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video che darà il via a un progetto che avevo da tempo in mente sul canale Ragazzi è circa un annetto più o meno all'incirca che sto ideando questa particolare serie non proprio come ve la presento quest'oggi Ma una bozza l'avevo già fatto tempo fa e quest'oggi ragazzi finalmente anche con il sopraggiungere dell'estate ho deciso di dare il via a questo progetto Oggi vi andrò a spiegare le regole della Destiny Challenge che si chiama così per un motivo specifico che poi andremo a vedere Come vedete il gioco è Pokémon Ross ragazzi ma se questa serie vi piacerà potrei pensare di portarla su ogni generazione Ma lo staremo a vedere non si dice ma vabbè comunque è la quinta volta che cerco di registrare questo spezzone Va bene fatevi andare bene gli strafalcioni In ogni caso ragazzi volevo prima di iniziare a dirvi che le serie di riferimento, le serie che ho preso da qui Ho preso spunto soprattutto per stilare qua il mio regolamento che adesso vi leggerò Sono il FIFA Obiettivi di Ron e la Ruota della Futuna di Sodin Ovviamente con queste due serie c'entrano poco o nulla ma è stato questi due youtuber sono stati l'ispirazione in sostanza Ora ragazzi iniziamo con le regole Non è una Nuzlocke, non è per nulla una Nuzlocke, è qualcosa di totalmente diverso E spero davvero che questa serie vada bene perché secondo me è qualcosa di innovativo che almeno in Italia penso non si sia mai visto Comunque la challenge inizierà con un Pokémon Random per iniziare per l'appunto Sì sto leggendo praticamente esattamente quello che ho scritto su questo foglio Il gioco è randomizzato in molte sfaccettature, ci sono i po' conservatici randomizzati, quelli dei generatori randomizzati Gli starter è randomizzati e il mio starter è stato un Moltres a livello 9 Ma ragazzi questo Moltres verrà sostituito con un Pokémon Random Cosa vuol dire Pokémon Random? Vuol dire che tramite un'applicazione del mio telefono distrutto Che adesso la dovrò aprire e non vi farò vedere perché non mi hanno pagato E quindi giustamente dici non ti pagano, non la fai vedere Qua potete vedere che abbiamo un generatore casuale di numeri che va dall'1 al 151 Ovviamente l'ho settato io così Ah e per chi se lo stesse chiedendo non ho potuto farlo con tutti i Pokémon fino alla sesta generazione In Pokémon rosso sapete che c'è quella cron particolare perché mi sminchiava tutto Comunque genero a caso Pokémon numero 69 Perfetto E adesso noi andiamo a vedere qual è il Pokémon del Pokédex di Kanto che rappresenta Che è rappresentato in sostanza dal numero 69 Ok il numero 69 sarebbe un bel Sprout Quindi ragazzi questo Moltres che ho portato a livello 9 Quindi quando inizieremo la serie il Pokémon che andrà a sostituirlo sarà a quel livello Il Pokémon ipotetico che entrerebbe a far parte del team come starter Sarebbe un bel Sprout a livello 9 Questo ovviamente ragazzi io posso farlo accando il gioco Accando fra tante virgolette il gioco Tramite PkEx che è un'applicazione particolare che mi permetterà di fare tantissime cose Che riguardano in sostanza buona parte di questa serie Poi le regole proseguono però ragazzi perché ad ogni episodio della serie Quindi partendo dal prossimo Se per l'intero episodio non si dovesse essere morti Per l'episodio successivo si guadagnerà un Pokémon per il team Vuol dire ragazzi per dire che il primo episodio lo dovremmo fare tutto con bel Sprout Prendiamo bel Sprout poi non sarà lui il Pokémon Però facciamo finta che sia lui Lo dovremmo fare tutto con quel Pokémon E se riusciremo a non morire neanche una volta Ci aggiudicheremo un altro Pokémon random ovviamente Che entrerà a far parte del team dall'episodio successivo Ragazzi questa serie come vedete qua sotto dalla sidebar È caratterizzata dalle vite Le vite ragazzi in questo caso sono due E perché sono due? Perché la vita per ogni Pokémon posseduto Cioè è presente in sostanza una vita per ogni Pokémon posseduto Quindi noi abbiamo bel Sprout una vita Più una vita bonus che è considerata fra tante virgolette quella dell'allenatore Quindi se noi avessimo tre Pokémon nel nostro team Le nostre vite ammonterebbero a quattro I tre Pokémon più noi fra tante virgolette Si perde una vita ad ogni sconfitta conseguita dal team Vuol dire che se il mio team dovesse perdere Io perderò automaticamente una vita Ovviamente ciò non vuol dire game over perdere una vita Game over vuol dire perderle tutte Quindi poniamo caso che io e il mio bel Sprout Forti della nostra conoscenza Andiamo a perdere contro un pigliamosche Perdiamo una vita Scendiamo a vita uno E abbiamo un'altra possibilità Se le riprendiamo di nuovo Il gioco finirà con un tristissimo game over Proseguendo con le regole abbiamo delle piccole sfaccettature Ad ogni medaglia conquistata si ottiene un Pokémon al terzo stadio Da usare nell'episodio successivo Ovviamente sempre random Questo vuol dire ragazzi che andando a generare Un altro numero random con la nostra applicazione che non ci paga Andremo a ottenere per dire il numero 9 Che dovrebbe essere uno dei 3 starter Forse Charizard non vorrei sparare una stronzata Comunque andiamo a controllare più o meno subito Se su Pocah Centro non mettessero pubblicità ogni 3 secondi Sarebbe anche una gran cosa Blastoise Blastoise Pokémon al terzo stadio Ovviamente se mi dovesse essere uscito Squirtle Sarei andato a prendere la sua ultima evoluzione Poi ragazzi sconfiggendo il boss del Team Rocket Ossia Giovanni Si otterrà un Pokémon base a scelta Vuol dire che io posso decidere Senza fare il processo del numero casuale Di mettermi in squadra Merda Merda posso mettermelo in squadra Ogni volta che si batterà Giovanni Nel gioco lo si batte una, due, tre volte E quindi avremo per tre volte nel gioco Sempre che riusciamo a batterlo Avremo a disposizione tre Pokémon base a nostra scelta Battendo il rivale invece si otterrà uno strumento A propria scelta Quindi per dire non lo so Ho un Eevee in squadra Ho bisogno di una pietra Non ho le pietre PS Gli strumenti per terra sono randomizzati Non ho le pietre per Eevee Batto il rivale Posso scegliermi una pietra Da inserire nella borsa E con la quale evolvere Eevee Ovviamente il discorso si può applicare a tutti gli altri strumenti Poi ragazzi Sesta regola Sono otto eh Ad ogni vita persa andrà liberato un Pokémon A scelta del team Ovviamente con un'eccezione Arrivati ad esempio a due vite Come nel caso iniziale Ci sarà il Pokémon finale Del team Vale due Cioè se io ho un unico Pokémon Nella squadra E muoio È come se venisse riciclato Ha diciamo una vita bonus Quel Pokémon Che poi in realtà è quella dell'allenatore Si lo so Questo passaggio forse è il più difficile Delle regole Però nel caso Lo trovate tutte in descrizione ragazzi Se volete farvi le idee un po' chiare Un po' più chiare magari Spero di essere stato Nei minimi Del concepibile Abbastanza Diciamo chiaro Esplicito E quindi ragazzi Quello che volevo dirvi Con questa regola È solamente Che ogni volta Che perderò una vita Dal mio team Andrà liberato un Pokémon Quindi se io ad esempio Perdo una vita Perché il mio team Da tre Pokémon Viene sconfitto Dovrò liberarne uno E proseguire con due Così viceversa Fino ad arrivare all'ultimo membro Che se dovesse perdere Potrà essere riciclato In quanto esiste la vita bonus Ah e ovviamente Le vite Si andranno A riciclo E questo pezzo Ho deciso di tagliarlo Perché sono stato chiaro Come le acque del gange Possiamo proseguire Ragazzi Settima regola È una cosa Abbastanza particolare Perché Perdere contro il rivale O contro un capopalestra O contro Giovanni Implicherà non solo La perdita di una vita Ma anche la perdita Di ogni strumento Posseduto Nello zaino Questo vuol dire Ragazzi Che io però Posso mettere gli strumenti Nel box E salvarli Quella è una sorta di Save zone Chiamiamola così Dove posso mettere Magari gli strumenti Più importanti Prima di uno scontro In modo tale Da non rischiare Di perderli E ragazzi Ultimissima regola Si dispone Di tre aiuti Leggendari Vuol dire Che in una situazione Di difficoltà Per tre volte Io posso scegliere Di mettermi in squadra Un pokemon Tra i leggendari Di questa generazione Ossia Moltres Zapdos Articuno Mewtwo E Mew Questi pokemon Però dureranno Un unico episodio Non conterranno Come vite All'interno del gioco E andranno liberati Alla fine Di ogni singolo episodio Quindi poniamo caso Che mi trovo Per la lega Con un unico pokemon Decido Ho ancora tutti i miei Tre aiuti divini E leggendari Scusate Mi stavo pensando al dio E non li ho mai utilizzati Per l'intera serie Posso utilizzarli tutti e tre E mettermi in squadra I tre pokemon Leggendari Che possono essere Appunto Uno tra Sapdos Moltres Articuno Mewtwo E Mew Ho la saliva Ovviamente questi aiuti Possono distribuirsi A mia scelta All'interno Dell'intero gioco Quindi non è necessario Averceli tutti e tre Allo stesso tempo Come non è obbligatorio Doverli separare Posso utilizzarli Quando voglio io E a totale Mia discrezione E vostro Ovviamente perché Vi voglio sempre attivi Con i vostri consigli Ragazzi Le regole Sono concluse qua Io spero Che l'idea vi piaccia È una prima È la primissima volta Che provo a fare una roba del genere Quindi se avete degli Degli accorgimenti Da fare alle regole Magari nei commenti O qualche cosa Che mi è sfuggita Qualche dettaglio Del gioco Che non vi è ben chiaro Fate tante domande Io cercherò Di rispondervi Il più possibile Sarà difficile Perché siete in tantissime Ormai Però ci proverò Comunque ragazzi Vi invito a dare un'occhiata La descrizione Perché ci sono tutte le regole Se ovviamente Non avete capito bene Se non sono stato chiarissimo Allora non lo so Usannatemi E nulla Se il progetto vi piace Lasciate un bel mi piace Inizierà con l'inizio dell'estate Quindi Non lo so Inizio giugno Tra l'altro ragazzi Ho tanti bei progetti Per quest'estate Tanti bei progetti Ho una serie in co-op Di cui forse è già uscito il trailer Non ve la spoilerò nel caso Abbiamo un progetto Io Tia E Luke Che sarà davvero spettacolare Se andrà in porto E quindi ragazzi Quest'estate Sarà un'estate Di grandi movimenti Detto ciò Io non vi lascio perdere Un ulteriore tempo Spero che il video vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace Un commento E un'iscrizione Al canale Fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate Di questa challenge E fatemi pure Vari accorgimenti Alle regole Roba del genere Li prenderò comunque In considerazione Ah e ovviamente Se nel corso della serie Dovessi notare Che è troppo facile O troppo difficile Cercherò di dare una sistematina Alle regole Proprio perché ragazzi È la prima volta Che faccio una roba del genere E forse è la prima volta Del globo Cioè il mondo forse Non è preparato Per questa cosa Ma comunque ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video Passate dai social Premete la campanella E nulla Ciao ragazzi